La Evergreen è felice di presentare la nuova evoluzione del materasso, il multiondo a sette zone Energy Flower. Questo materasso unisce l'effetto memoria di forma del memory con l'anatomicità della lavorazione multiondo che segue il corretto ondamento della colonna vertebrale. La lastra interna è composta da tre strati di materiale, 6 cm di memory, 6 cm water foam alta portanza, 6 cm water foam bassa portanza. Il memory rende il materasso automodellante perché prende la forma del corpo di chi vi riposa. Originariamente creato dalle ricerche spaziali, questo materiale trova grande applicazione anche in campo sanitario poiché mantiene una corretta postura della colonna vertebrale e favorisce la circolazione sanguigna. Il water foam alta e bassa portanza offre ottime qualità ortopediche e facilita il completo rilassamento della fascia muscolare. La lavorazione della lastra a sette zone offre la portanza differenziata necessaria ad accogliere la diversa pressione esercitata da ogni parte del nostro corpo. Inoltre il materasso è 100% produzione italiana, è antiacaro e anallergico. Il materasso possiede un tessuto di rivestimento in fibra d'argento, è antimicrobico e antiodore. Grazie alle proprietà dell'argento è capace di dissipare le fastidiose cariche elettrostatiche. Il tessuto è sfoderabile su quattro lati, pertanto lavabile in lavatrice. Ha una fascia di areazione laterale di 6 centimetri che facilita il ricircolo dell'aria nel materasso. Il nostro dipartimento ricerca e sviluppo si occupa anche dei test di conformità e di durata che mettono a dura prova i materassi allo scopo di avere un prodotto finito esente da difetti e in grado di durare nel tempo mantenendo inalterate le sue caratteristiche di comfort. A tal riguardo questo materasso è stato testato con il software ErgoCheck che con l'aiuto di 684 sensori studia come un corpo umano esercita la sua pressione a seconda dei punti di appoggio. In base a questo viene realizzato un materasso che sia capace di distribuire la pressione, si adatti alle naturali curvature del corpo, riduca dolcemente i punti di pressione e sostenga il corpo in ogni sua parte in modo tale che il risveglio sia giorno dopo giorno sempre più rivitalizzante.